Uno sforzo enorme, che non è stato imposto né richiesto allo Stato e alle sue amministrazioni centrali. E suscita un sentimento di amarezza dover assistere troppo spesso a rappresentazioni di noi e dei comuni come luogo dello spreco. Quanto i comuni sono stati in questi anni il luogo nei quali di più si è operato per mettere a posto i conti, tagliare sprechi, razionalizzare la spesa, garantire un utilizzo ottimale delle risorse.